Gli imprenditori e i manager più illuminati del settore pet lo hanno già capito da tempo. È arrivato il momento di cambiare pelle e di eliminare la tradizionale distinzione tra online e offline a favore di un pet marketing figitale più evoluto, integrato e omnicanale e sempre più vicino al cliente finale. Vita reale e relazione digitale non sono più due mondi paralleli, ma al contrario due dimensioni convergenti che si alimentano e potenziano a vicenda e dalla cui fusione possono derivare notevoli benefici. Questa è la vera sfida animale del tuo 2019.